Oh, ora va bene, ora è giusta, e che cavolo, ora riesci? Ma fa niente, va bene, va bene, adesso va molto meglio, quando arrivi a metà metti la seconda, alzati in piedi, senza cambiare, senza pensare a niente, tirti diritta, prova, devi arrivare, però non pensare di girare, quando sei diritta sul pezzettino lungo ti alzi solo e basta, appena arrivi là che devi fare la cura ti risiedi, brava, senza gasare troppo, fregatene, impara, non ti preoccupare, dopo diventa tutto normale, ci vuole il tempo, brava, quando arrivi a metà metti la tua seconda e poi provi ad alzarti, senza esagerare, appena vedi ti risiedi, muovila, prova a muoverla, poi quello lì all'inizio, spostagli allo di là, così non devi ogni volta cambiare la, devo mettergli come il mio, quello magnetico, perché questo qua è stupido, però piuttosto che tu devi, lei deve continuare, mettiglielo di qua, che così questa non la toglie, ma la toglie, sì, dopo le stesse, però quella là impara a tirarla fuori con lo stivale, vai vediamo se ce la fai, cacchio fai successo subito in prima volta, incredibile, cambia, cambia prima, vai, brava, così, e allora, ragazzo, e allora, su, 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 bravissima, così, e che cavolo, su, 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 su spettacolo brava 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 prima di girare di rimetterla prima almeno imparo a cambiarla certo ha accelerato tutto bravissima brava